bambini buongiorno vi volevo leggere questa storia sono patrizia della sezione a di cavriglia perché mi mancate e vorrei rivedervi proprio presto il pesciolino d'oro in una piccola casetta vicino al mare vivevano in grande povertà un vecchio e sua moglie il vecchio fabbricava reti e pescava ma pochi pesci solo quelli necessari per poter tirare avanti un giorno però tirando sulla rete si accorse che era molto pesante pensava che fosse piena invece dentro c'era solo un pesciolino d'oro lasciano andare vecchio io sono così piccolo se mi lasci tornare nel mare farò quello che vorrai il vecchio si impietosì gettò in mare il pesciolino e andò a casa raccontò tutta la moglie che si arrabbiò moltissimo l'hai ributtato in acqua hai fatto male la dispensa è vuota dovevi chiedergli almeno un po di pane il vecchio allora tornò sulla riva del mare chiamò pesciolino pesciolino d'oro il pesciolino arrivò e il vecchio pescatore gli disse delle lamentelle della moglie della dispensa vuota e del pane vai a casa vecchio disse il pesce d'oro ci sarà pane a volontà quando fu a casa il vecchio vede che il pane c'era ma la moglie era ancora arrabbiata si era rotta la tinozza per il bucato e lei ne voleva subito una nuova il vecchio tornò al mare chiamò di nuovo il pesciolino d'oro e gli disse della tinozza rossa certo rotta certo avrai la tua tinozza loro sicuro il pesce il vecchio tornò a casa ma sua moglie non lo lasciò neppure entrare torna subito dal pesce d'oro gli ordinò e chiedergli una casa nuova questa è vecchia e cadente e per la terza volta il vecchio tornò e arriva al mare e chiamò il pesciolino d'oro quando quello arrivò si scusò e gli disse richiese una casa nuova ancora una volta il pesciolino magico lo accontentò ora al posto della sua vecchia casa ce n'era una nuova solida calda e colorata ma la vecchia moglie non era ancora contenta vecchio sciocco perché mai dovrei accontentarmi torna dal tuo pesce e dirgli che voglio un palazzo voglio essere una ricca signora il povero vecchio si vergognava ma tornò al mare e chiamò ancora il pesciolino d'oro mia moglie impazzita gli disse al suo arrivo vuole un palazzo ed essere una ricca signora gli sembrava una richiesta esagerata ma il pesciolino la contentò ancora al suo ritorno al suo ritorno la casetta non c'era più al suo posto sorgeva un palazzo e c'erano servi e stalle e scudieri al lavoro il vecchio voleva entrare nel palazzo ma sua moglie ordinò che fosse tenuto fuori in fondo lei ora era una ricca signora mentre lui era solo un povero pescatore poi la vecchia ordinò che gli fosse dato una scopa e che pulisse il cortile per molti giorni l'uomo dovette spazzare il cortile e anche bene se non voleva essere punito per mangiare per bene pescatore andava in cucina ma le altre stanze del palazzo non le vide mai un giorno la vecchia si stancò di essere solo una ricca signora fece chiamare il vecchio gli ordinò vada al pesciolino d'oro vecchio e digli che voglio essere una regina il vecchio tornò al mare chiamò e chiamò ma il pesciolino d'oro questa volta proprio non si vedeva il vecchio chiamò ancora e ancora improvvisamente il mare calmo improvvisamente il mare calmo fino ad allora ripoli e grandi onti sperzarono la spiaggia il mare diventò tempestoso e in mezzo a quella tempesta parve il pesciolino che vuoi vecchio chiese con una vocetta dura e secca che il pescatore non ricordava di averli mai sentito mi dispiace pesciolino rispose il pescatore ma mia moglie vuole essere una regina avere un castello e mi riserva i suoi ordini il pesce restò un attimo in silenzio poi disse torna a casa vecchio tua moglie avrà quel che si merita poi sparì in mezzo alle onde di quel mare in burrasca il vecchio torno a casa guardò e non credette ai suoi occhi il palazzo era sparito e al suo posto c'era la vecchia casetta cadente davanti alla casa era seduta sua moglie con la tinozza rotta e l'aria stupita i due ricominciarono così a vivere come prima ogni giorno il vecchio tornava a pescare il mare ma non riuscì mai più a prendere il pesciolino un saluto bambini da patrizia